Consigliere Bruzeniti, all'indomani del famoso caso Palapacanizzaro, così come noi lo abbiamo nominato in numerosi servizi, lei e altri due consiglieri dell'opposizione in Commissione Sport e Cultura, avete ufficializzato la richiesta di ritiro della delega allo sport per l'assessore Castiglione. Dunque la vostra richiesta a questo punto diventa o diventerà a breve un atto formale? Assolutamente diventerà un atto formale e credo anche dovuto, dovuto per la vicenda ultima sicuramente del Palapacanizzaro, ma non solamente per quella, quello può essere l'ultimo spunto, l'ultima situazione grave che contraddistingue tutte le mancanze di questa amministrazione, perché possiamo parlare del caso Palapacanizzaro oggi o meglio ancora ieri, ma possiamo parlare di tutte le problematiche che riguardano gli impianti sportivi, del credito sportivo che rischiamo se non addirittura abbiamo già perso. Quindi le 180 mila euro che tanto abbiamo proclamato e pubblicizzato in questo anno e mezzo, probabilmente per una mancanza di competenza da parte dell'amministrazione, non troveranno sede all'interno del bilancio e quindi probabilmente non arriveranno nelle casse comunali. Questo è un grave indizio che colpevolizza questa amministrazione e ci fa capire che veramente non riescono a cavare un ragno dal buco. Lo sport in questa città è già carente, la situazione è drammatica e noi continuiamo a perdere soldi e a non saper gestire la situazione. Voi avete fatto numerosi sopralluoghi durante le commissioni, durante i lavori di commissione, avendo riscontrato moltissime problematiche negli impianti sportivi già esistenti. E allora diciamo le faccio una domanda che colpisce al centro, perché riparliamo sempre del famoso campo di bocce che è stato il suo cavallo di battaglia in numerosi consigli comunali, con interventi anche molto accalorati, molto vehementi. Quei deneri lì potevano essere utilizzati in altro modo? Se sì, perché, come? Potevano essere utilizzati in tantissimi modi, perché sappiamo bene in che condizioni versa lo Stadio Palmitelli, in cui quest'anno la Nissa, fra le tante difficoltà, ha vinto anche il campionato. Quindi un applauso sicuramente alla società e a tutte le società che, nonostante le problematiche dei nostri impianti, operano e danno anche ristoro ai tanti sportivi e ai tanti giovani della nostra città. Però noi non possiamo nasconderci in questa situazione, noi dobbiamo fare il nostro. E in questo momento sindaco, assessore, ma tutta l'amministrazione Ruvolo assolutamente non ha ancora capito qual è il loro ruolo. Non hanno ancora compreso che lo sport nella nostra città, che vive di poche cose, di piccole cose, è fondamentale, risulta fondamentale per i nostri giovani, per aggregare, per farli crescere. Loro invece non hanno ancora compreso che la delega allo sport negli anni ha sempre rappresentato uno dei fiori all'occhiello della nostra città e che oggi purtroppo è veramente quasi azzerata, quasi annullata. Le volevo chiedere, il campo di bocce in questo momento in che condizioni è? Credo sia al momento chiuso. Quindi le 80.000, 90.000 euro all'incirca spese per quel campo di bocce in questo momento hanno dato vita a un impianto, per carità nuovo, quantomeno ripristinato, ma comunque chiuso, non fruibile ai nostri cittadini. Quando invece gli impianti che in questo momento sono aperti e utilizzati ai nostri cittadini versano ancora in condizioni drammatiche. Abbiamo voluto prendere spunto dalla situazione legata al Palacannizzaro per parlare di tutte queste vicende perché è stato l'assessore stesso ieri in una seduta di commissione insieme al sindaco a dirci che nell'ultimo anno e l'ultimo anno e mezzo la situazione relativa agli impianti comunali è assolutamente peggiorato. Beh, allora si passino davvero una mano sulla coscienza, ammettano il fallimento e quantomeno il sindaco comprenda che l'assessore Castiglione non è intoccabile, quantomeno lo sport deve assolutamente toglierlo come delega e vedere di darlo a qualcuno che abbia più competenze perché non parliamo della persona. Probabilmente l'assessore Castiglione sarà una delle più brave e competenti persone e figure dal punto di vista culturale, ma con lo sport davvero non ho ancora capito da che parte stare. Perché questa richiesta non l'avete fatta ieri in Consiglio Comunale? Quando era il luogo opportuno e probabilmente forse non era incardinato all'ordine del giorno, però lo avreste potuto dire dinanzi a tutti. Saremmo sembrati strumentali. Siccome è qualcosa che riguarda la città e non volevamo dare un connotato prettamente politico e non strumentale, abbiamo voluto affrontare il Consiglio Comunale con le tematiche all'ordine del giorno e doggio affrontare in separata sede la vicenda che è alquanto triste.